Ciao a tutti, sono Eike e benvenuti o bentornati sul mio canale. Ebbene, sì, sono mancata per un bel po' di tempo, in realtà per un anno, e colgo l'occasione per farvi gli auguri, anche se un po' in ritardo, di buon anno nuovo. Questo, come avrete letto dal titolo, sarà un video dedicato ai miei regali di Natale a tema libri, film, serie tv, insomma. Non ve li mostro tutti, ma vi mostro i regali che hanno a che fare con i temi, anzi, del canale. Durante queste festività mi hanno regalato quattro libri, e ve li mostrerò in ordine di come ho apparto il pacchetto. Sono libri che mi sono stati regati dai miei amici, quindi ci tengo ancora a ringraziarli. E sono libri di generi diversi, e direi di cominciare subito, però. Allora, i primi due erano insieme, e si tratta di questi due qua, ovvero il settimo manoscritto di Fabrizio Santi, questo qui, e 99 giorni di K.A.Tacker, questo qua. Allora, questo qua, il settimo manoscritto, è edito dalla Newton Compton Editori, è stato pubblicato nel 2016, e ha un totale di 333 pagine. E sono tutti libri che, allora, a parte questo, che ammetto che non conoscevo, gli altri li avevo già sentiti nominare tutti, e non vedo l'ora di leggerli tutti. Quindi, questo, poi questo qua, invece, è edito sempre dalla Newton. E' stato pubblicato nel... Allora, in originale, nel 2014, e questa è l'edizione del 2016. E ha un totale di... 375 pagine, quindi questi due sono i primi due. Poi, il terzo libro è stato questo qui, L'impero del vampiro, di J. Christophe. Allora, J. Christophe è un autore di cui ho sentito moltissimo parlare, soprattutto per... Come che si chiama? J. Christophe l'ho sentito nominare soprattutto per la saga di Nevernight, e anche per quella di Illumine. E volevo prima leggere quelli, e poi leggere questo, che, comunque, è un bel balloppo, e la copertina a me piace un sacco. E' stato pubblicato dalla Mondadori... Sto parlando sempre dell'impero del vampiro adesso. E' stato pubblicato dalla Mondadori. Questa è l'edizione... Uh! Guardate che bello! Mi piace un sacco. Dicevo, allora, questa è l'edizione... E' recente, mi sembra, se non sbaglio. Questa è l'edizione del 2021, infatti. E ha un totale di... 772 pagine. Quindi, questo qua, J. Christophe. So che ho tanti piatti, quindi non vedo la di leggerlo anch'io. In generale, come autore, dico. L'ultimo, ma non per importanza, è questo qua, il lupo, di David King. Ambientato nella Parigi durante la Seconda Guerra Mondiale, nel 44. E questo ammetto che l'ho già iniziato. E' stato pubblicato dalla PM. Penso che in particolare sia un'edizione... Come che si dice? No, non un'edizione. Comunque... Una... Non so come si dice. Comunque, c'è scritto True PM. Quindi, non so se è tipo una... Non una succursale. Vabbè, abbiamo capito, insomma. Comunque... Una sezione, ecco. Penso che sia una sezione della PM dedicata a questo genere qua. Ed è stato pubblicato nel... Nel 2012. E ha un totale di... 454 pagine. Ammetto che di quest'autore non ho mai letto niente. Quindi, questo è il primo libro che leggo suo. E' uno scrittore americano. Quindi, questi sono i quattro libri che mi hanno regalato a Natale. E vi farò poi sapere cosa ne penso più avanti quando le avrò letti. Fatemi sapere invece voi se le avete lette e se sì, cosa ne pensate. E noi ci vediamo ad un prossimo video. Vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao! Grazie a tutti.